Per ora dobbiamo approfittare di questo atteggiamento che sarà pure di disincanto ma che è anche di massima attenzione perché oggi nella nostra città c'è una grande attenzione per tutto quello che diciamo e per tutto quello che facciamo. C'è una grande attenzione, dobbiamo utilizzare questa attenzione per ragionare con i nostri concittadini. Io sono un'espressione di una parte politica, è vero, non lo dobbiamo nascondere, del centro-sinistra che assieme ai movimenti e rifondazioni si è unito per dare un progetto e una prospettiva alla città ma io voglio essere anche e soprattutto il candidato sindaco delle persone alle quali andiamo a chiedere il consenso e quindi io vi invito davvero ad una grande fiducia e dopo questa giornata nella quale ho inserito.